Musica Allora, mostra mercato nazionale naturalmente, città di Castello, una settimana di grandi eventi ma soprattutto una settimana ricca di spunti per chi verrà a visitare la mostra mercato. Vogliamo scoprire quali saranno gli spunti? Sì, la mostra mercato è la 39esima edizione, come diceva, è una delle più vecchie d'Italia e città di Castello, il territorio dell'Alto Tevere, è un territorio che è un grosso produttore, se si può dire così, di tartufo bianco, ma non solo perché abbiamo il tartufo tutto l'anno, questo è uno slogan, ma è anche una verità. La mostra ha la finalità di proporre il territorio attraverso il tartufo, perché oltre il tartufo abbiamo un sacco di altre cose, sia dal punto dello gastronomico, infatti in questi giorni avremo il salone del vino, perché abbiamo, non proprio città di Castello, però in Umbria abbiamo dei ottimi vini, cominciando da Montefalco, bla 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 bla, e poi abbiamo il salone dell'olio, perché comunque l'olio è un altro dei prodotti d'eccellenza dell'Umbria, quindi anche dell'Alta Valle del Tevere, poi abbiamo una serie di attività di carattere, quello che si chiama show cooking, perché la cucina di un territorio è un fatto culturale, perché è basata sui prodotti del territorio, quindi attraverso lo show cooking cerchiamo di valorizzare dei piatti, quindi metodi di cucina tradizionali, meno tradizionali, con prodotti della nostra agricoltura, mi viene in mente adesso la chianina che è la carne, e assieme a questo noi poi abbiamo legato lo slow food, perché abbiamo due presidi slow food, uno è mazza fegato, adesso non sto a spiegare, però è insaccato, e il vin santo affumicato, che è un vin santo che veniva prodotto una volta con le uve che venivano attaccate nelle cucine, quindi prendeva di fumo perché i cammini facevano lavoro. Quanta estensione ci sarà nella mostra mercato e soprattutto quanti saranno gli espositori e coloro i quali i cavatori che andranno a vendere il loro prodotto? Guardi, noi abbiamo la più grossa associazione di tartufaio dell'Umbria, perché nell'Alta Umbria ci sono circa 2000 cavatori, sono tanti, tenga conto che è un territorio che ha circa 120.000 abitanti, quindi faccia la proporzione, perché appunto c'è una bella produzione e soprattutto è di qualità, e quindi diciamo che la mostra raccoglie produttori locali, noi purtroppo, per fortuna, selezioniamo solo venditori che vendono il prodotto del nostro territorio, ci sono anche altre possibilità, ma noi cerchiamo di garantire la qualità soprattutto del nostro, e poi abbiamo delle zone della città dove si fanno altre attività, non ultimo quello di un mercato regionale, perché poi i tifernati, così si chiamano gli abitanti di città di Castello, abituati al tartufo un po' da sempre, magari preferiscono altri prodotti che vengono dalla Campania, e quindi siamo insieme, sono tre piazze fondamentalmente con distante, sì. Grazie. Prego.